Grazie mille, io faccio l'introduzione rapidissima, poi darei la parola a Marco Lombardo e poi lasceramo tutto il tempo a Filippo Tatei. Innanzitutto vorrei in due parole spiegarvi la ragione per la quale siamo qua. Ed è questa, abbiamo sentito molto l'esigenza di condividere insieme i contenuti, perché abbiamo, è vero, come diceva Borgatti prima, è da molto tempo che vogliamo incontrare il partito, nei suoi segretari per cominciare a parlare di politica una volta per tutte, perché insomma purtroppo altri impegni ci hanno coinvolti e ci hanno sentanto assorbiti. Adesso è arrivato il momento di cominciare a concentrarci sul merito e affrontare i temini nella loro declinazione più importante, più tecnica. Perché? Perché noi abbiamo bisogno di avere un'informazione vera e capillare anche per condividere perplessità o dubbi o criticità e trovare una volta per tutte insomma una linea comune, posto che l'evocazione, i slanci, i valori, l'estensione dei diritti e gli aspetti contenuti all'interno del job act che è diventato legge ma che ci vedrà impegnati nella realizzazione dei decreti attuativi e qui ai prossimi mesi, e lì si declinerà ulteriormente, si dividerà ulteriormente con più precisione il contenuto che nel job act è attualmente una vocazione ma anche un indirizzo serio. Lascio la parola a Marco Lombardo, faccio questa introduzione rapidissimo proprio perché alle 20.45 ci sarà qui la direzione regionale, quindi vorrei lasciare il più tempo possibile a Filippo Taddei e poi eventualmente anche a vostre osservazioni dubbi.